15 agosto 2022 in diretta da simbario festa di san rocco i fuochi d'artificio buona visione 15 agosto 2022 in diretta da simbario festa di san rocco 15 agosto 2022 in diretta da simbario festa di san rocco 15 agosto 2022 in diretta da simbario festa di san rocco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.